Ritorna la festa quest'anno nella nuova location di Baia Flaminia. Il Partito Democratico mantiene questo impegno estivo di ritrovarsi attorno ai temi della politica, quanto più urgente e attuale anche per i nuovi scenari nazionali che stanno emergendo. Cominciamo il 20 con un incontro sui sindaci alle ore 21, quindi apriamo la festa con la politica e insieme al sindaco Matteo Ricci ci saranno il direttore del Tg2 San Giuliano a intervistare diverse sindache che hanno vinto le recenti elezioni o stanno amministrando le proprie città. Dal 21 invece alterniamo politica e spettacolo, quindi parleremo di politica nazionale e regionale perché avremo l'assemblea degli eletti del PD Marche, praticamente da tutta la regione verranno i nostri esponenti, i nostri amministratori, i nostri segretari e faranno un'assemblea aperta nel prato di Baia Flaminia moderato dal commissario Losacco dove interverranno anche i nostri consiglieri regionali Biancani Vitri. La sera si fa lo spettacolo di teatro dialettale della piccola ribalta. Dal 22 entriamo solo sul nazionale, abbiamo diversi parlamentari che si alterneranno nelle varie giornate, parlamentari ed eurodeputati perché abbiamo anche una collaborazione con il nostro gruppo a Bruxelles che avrà uno stand e ci manderà diversi eurodeputati. Il 22 si parla di politica nazionale, viene la nostra capogruppo del Senato Malpezzi che interagirà col sindaco di Bologna e l'Epore e con la nostra parlamentaria Alessia Morani. Quindi sarà il momento per parlare un po' di futuro della politica, visto che in questo momento è abbastanza frenetica. E alle ore 21 invece ricorderemo, come ha già detto il segretario Bellucci, il nostro amico e compagno Alex Eusepi scomparso recentemente con un concerto organizzato insieme all'associazione di cui faceva parte, Periferica. Sabato 23 invece parliamo molto di Europa, avremo due eurodeputati, la Bonafè e Smeriglio che interagiranno con Mancini, che è un nostro parlamentare della Commissione Bilancio e con Luca Ceriscioli, l'ex governatore della Regione Marche. Sarà un momento per parlare del rapporto tra l'Europa, l'Italia e la Regione. Subito dopo la sera avremo un concerto dei Cipwine. Domenica invece è il giorno più fitto, avremo un incontro sull'agricoltura, verrà la nostra eurodeputata Laureti della Commissione Agricoltura che interagirà con gli esponenti delle associazioni locali, moderata da Paolini, il Presidente della provincia. Subito dopo alle 19 verrà il governatore della Regione Campania, De Luca, che presenterà il suo ultimo libro e successivamente la sera chiudiamo con un ricordo di Raffaella Carrà. Fare festa per un partito è ritrovarsi, ritrovare le motivazioni di un dialogo, ritrovare le motivazioni di uno stare insieme discutendo, discutendo dei temi di attualità, facendo festa durante una cena, durante un ascolto di un gruppo musicale o una comedia dialettale. È una modalità normale che una forza politica dovrebbe avere nel suo DNA. Il PD la sta portando avanti, nonostante le difficoltà organizzative che il tempo ovviamente ci presenta tutti gli anni, ma le stesse difficoltà ovviamente vengono colmate dall'entusiasmo di un gruppo di giovani democratici in particolare che sta dando una grande spinta, una grande forza nell'organizzazione di questo evento.